Cosa succederà nella seconda puntata della serie con l'aiuto del cielo in onda il 29 novembre 2022 in prima serata su Canale 5? Scopriamolo assieme. Cleman non si dà pace e continua a cercare i propri genitori e a dare una spiegazione alla misteriosa chiave trovata nel suo pannolino da Matthias. Nel frattempo Cleman viene chiamato come nuovo esperto di psicocriminologia per offrire il proprio contributo agli inquirenti, contributo che in passato si è rivelato determinante. Chi non è entusiasta della novità è Ellie, la quale all'inizio non sembra gradire la sua presenza e soprattutto il suo approccio, poco professionale, alle indagini. Nonostante le perplessità di Ellie, la presenza di Cleman nella squadra si rivela determinante in un caso di omicidio avvenuto all'interno di un tempio protestante. Infatti, nelle Seven, Jonas, capo di un campo scout, viene trovato morto in un tempio protestante, con una siringa in mano. Tutto fa pensare che non si tratti di un overdose, ma di un omicidio sotto mentite spoglie. È, infatti, proprio grazie all'aiuto di Cleman che gli investigatori trovano un indizio che sarebbe passato altrimenti inosservato. Si tratta di una Bibbia chiusa. Infatti, pare che ci sia un significato simbolico dietro questo oggetto. Secondo Cleman, tra i protestanti, la Bibbia deve rimanere sempre aperta. Chiuderla è un forte atto di rottura della fede. Chiunque abbia fatto questo, negava la grazia di Dio. È come dire, quello che ho fatto non merita perdono, non voglio essere salvato. La ricerca del colpevole di questo omicidio metterà a dura prova i nervi e i sentimenti di Ellie e Cleman, pur continuando a imparare che la loro differenza è la loro forza. Ellie è intransigente con Cleman, sottolineando come egli sia lì e lì per osservare e tirare le sue conclusioni, il resto spetta agli inquirenti. Certo, in realtà, sarà difficile per il nostro novizio rimanere solo uno spettatore e inevitabilmente, questo causerà una certa tensione. Nel frattempo Alex, stanco del comportamento di Ellie che non vuole impegnarsi in una relazione, chiede il trasferimento a Lione per mettere un punto alla loro relazione. Cosa ne pensate di questa serie? Vi sta piacendo? Fatecelo sapere nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime anticipazioni.